Numeri incoraggianti per la disoccupazione italiana che, secondo i dati provvisori dell'Istat, registra un calo di 0,1 punti percentuali da ottobre e di 0,5 punti da novembre 2017. L'Istituto di Statistica osserva come dopo due mesi di crescita torni a calare la stima delle persone in cerca di occupazione, meno 0,9%, pari a meno 25.000 unità. Il calo si concentra prevalentemente tra le donne e le persone tra 15 e 34 anni. I disoccupati sono 2.735.000. Il calo della disoccupazione è compensato dall'aumento del tasso di inattività al 34,3% più 0,1 punti percentuali. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione giovanile a novembre 2018, registra il 31,6%, una flessione che nella fascia di età 15-24 anni è di 0,6 punti percentuali da ottobre e di 1,5 punti da novembre 2017. 678 milioni di euro, questa la sanzione inflitta alle case automobilistiche e società finanziarie responsabili di aver messo in piedi un cartello per la vendita di automobili tramite finanziamento. L'antitrust ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra il 2003 e il 2017, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali del mercato nella vendita di automobili, attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks. Una decisione presa dopo che il 20 dicembre scorso si è conclusa un'istruttoria avviata nei confronti delle principali captive banks e dei relativi gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della vendita di autoveicoli mediante prodotti finanziari, nonché delle relative associazioni di categoria, conclusa accertando l'attuazione di un'intesa unica, complessa e continuata, avente ad oggetto lo scambio di informazioni sensibili relative a quantità e prezzi, anche attuali e futuri. In considerazione della gravità e della durata dell'infrazione, l'autorità ha imposto come sanzione pecuniaria un totale complessivo di circa 678 milioni di euro.